... Ci faccio un esempio come succede in una scossa di terremoto che clona un palazzo e lei si trova sotto, che non si può salvare, uguale sono io. Siamo 800 persone, 800 persone entrano tutte per lavorare, come ho bisogno io e hanno bisogno pure le altre famiglie. Allora è stata accettata la cooperativa Palermo Migliore, da Roma a qui, bastava soltanto una firma. Ho tre figlie e un'altra in arrivo, dopo il piccolo a sei mesi. Ho 40 anni e 40 anni che non lavoro.